Sabato 16 gennaio cominciano i saldi invernali in tutta la regione Marche. Un inizio posticipato rispetto alle abitudini che prevedevano le svendite ridosso dell'epifania ma che ritrae la particolarità del periodo. La regione è infatti andata incontro ad una specifica richiesta del comparto commerciale prorogando fino ad oggi le vendite promozionali e aprendo la stagione dei saldi solo nella seconda metà di gennaio. La speranza è di aprire anche un 2021 diverso dopo un 2020 illogorante per le attività commerciali. Un momento brutto quello che noi stiamo vivendo non tra la parte dei saldi o delle vendite promozionali ma proprio per il problema della pandemia che ci sta colpendo. Quest'anno la regione Marche, anche su richiesta delle associazioni di categoria, ha chiesto di posticipare i saldi che normalmente sarebbero dovuti partire il primo sabato del mese di gennaio, dando l'opportunità comunque quindi di gestire un pochettino meglio il periodo natalizio che quello che non consente la vendita a prezzo pieno perché molte persone piuttosto che acquistare nel periodo natalizio cosa fanno? Aspettano a che arrivi il saldo dopo dieci giorni. Etimologicamente la parola saldo e la vendita di fine stagione non ha, secondo noi e da tanto che facciamo questa polemica, non ha assolutamente valenza quella di poterla aprire i primi di gennaio quando il mese di 21 di dicembre inizia l'inverno. E i saldi cominceranno proprio in concomitanza al balletto ministeriale fra zona gialla e zona arancione. Spetterà dunque agli acquirenti adeguarsi di conseguenza. Per legge il saldo inizia il 16 e poi bisognerà andare a comprare e questo il cliente poi dopo dovrà dimostrare attraverso l'autocertificazione che sta andando per motivi di necessità perché si può muovere soltanto per motivi di necessità di saluto di lavoro. Però se io vado a comprare è logico che è un motivo di necessità. Il 16 ci auguriamo che questi saldi portino quel beneficio alle attività che portino quell'ossigeno necessario per far fronte a tasse e tributi imposte e a tutte le gabelle che il commercio deve pagare in questo momento.